L'introduzione, come posso dire, l'intrusione, ma come tutti gli anni abbiamo da ricordare qualcosa per il futuro. Noi quest'anno abbiamo provveduto, prego Don Mario, si accomodi, prego, Argenzia, venga, venga Don Mario, venga, venga. E allora, lo so, avete ragione, era doveroso, è un piccolo omaggio questa sera, prima di tutto la ringrazio personalmente per così avermi accontentato in questa cosa. Ecco, scusa Maria, noi le abbiamo fatto una piccola targa a ricordo, di qui a cent'anni, eh? Eh, grazie, eh? Eh, no. Allora, mi ricocorri da, sesta edizione, 11 agosto 2012, all'arcipreta e merito Don Mario Spinello. Riceva questo piccolo pensiero, quale attestato di stima e ringraziamento per quanto dà l'esvolto nella nostra comunità. Grazie, Don Mario. Facciamo un applauso ancora. Grazie per questo applauso, grazie. Grazie. E per completare, Alessu, lei si accomoda un attimino sulla poltroncina e le dedichiamo questo piccolo pensiero. Prego. Grazie. 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 Grazie.